Credo possa dare un contributo, spero possa dare un contributo a Gabriele Spanò che si è confermato in molte partite come giocatore è essenziale. Cosa ne pensi di questo torneo? Un torneo organizzato bene, non mi aspettavo così tante squadre, due gironi da sei. Un'ultima domanda, secondo te il livello delle squadre che ci sono rispetto a voi è superiore o vi mettete alla pari di tutte le altre squadre? Non l'avremmo fatto, abbiamo creato una squadra apposta per poterci giocare. Purtroppo qualcuno ha fatto qualche assenza in più rispetto a quella che si è aspettato. Oggi siamo otto, quindi uno in più rispetto al classico numero che ci accompagna dall'inizio del torneo fino a questa parte, però no, non abbiamo qualche varie tattiche. Perfetto, quindi sarete sempre, diciamo, tra virgolette, gli stessi a giocare, che vi conoscete sempre, insomma, siete sempre gli stessi. Abbiamo girato, a dire la verità, cioè siamo sempre lo stesso numero più o meno, ma sempre con giocatori diversi che ci hanno accompagnato. Qual è il punto forte della tua squadra? Un singolo elemento a cui tu veramente credi in questo torneo abbia fatto finora la differenza? Sicuramente è nata legato, fino ad adesso ho fatto la differenza. E' forte. In porta, in porta! Di nuovo! A posto! Dai! Dai! Bravo Dano! Bravo Dano! E' buona, bravo Dano! Focchi! In porta, Vino! Va bene, va bene! Stato! No, non c'è! Ehi! Oh! Oh! Bravolo! Bravo! Concludi! Concludi! Bravo! Bravo Dano! Bravo Dano! Bravo Dano! Vino! Vino! Un e due! Bravo Dano! Vai Gatoro! Vai Gatoro! Ehi! Va bene! Sergio! Bravo Sergio! Bravo Sergio! Bravo Sergio venga! Sergio è sì! Due dal tuo lato! No! Uno e due di noi! Bravo! Bravo Sergio! Bravo Sergio! Bravo Sergio! Bravo Sergio! Bravo Sergio! Bravo Sergio! Perché sei in basso così? Ok! Non è venuta dal campo! Ah! Se fosse un bambino! Oddio! Non fa l'acqua! Non l'abbiamo! L'hai detto! Oh! Ti ho chiamato! Questa lato! Arriva Natà Troca! Troca! Si distendono! No! Tiii! VRAVI la storica ho pieno no sta cambiando un macello va il anno stia bravo 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 Allarga la dita suale, Capri! Comunque le calze di broccio sono in guardia a due Dico! Va bene! Però c'è un po' tanto Caso in generale è anche perché pochino Anche se sei tipo... Come si può girare? Moltissimo! Bravo! Tira da! Esci! Esci tu! Bravo! Bravo, bravo! Sì! Passimo! Sì! Oh! Brava Ciccio! Ancora Ciccio! Guarda! 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 Sto parlando con te! Mi chiamavo con Ciccio! Guarda! 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 campo ragazzi rigori 5 a testa ciao siiii 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 tira sotto siiii siiii vabbè i cese siiii no 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 siiii siiii braaa braaa ricalcio un po siiii centrale una tira siiii siiii